Lalla! Perché sono contenta? Perché stamane mi è arrivata l'offerta gioia a casa della Stonish Italia! Guardate, una splendida batteria da cucina dietetica in acciaio Inos 1810. Ben 5 pezzi da fuoco! Fondo fuso con 10 mm di spessore. Uè, è garantita vita! Con questa batteria posso cucinare senza acqua e senza grassi, mantenendo i cibi fragranti e genuini. Pensate che il valore della batteria è di oltre un milione. Quanto l'ho pagata? Ma solo 398 mila lire! E non è tutto! Oggi oltre alla batteria ti danno questa favolosa macchina da cucire. Oppure prodotti singe per un valore di 298 mila lire! Il mixer a doppia frusta, un ferro da stilo vapore, questo pratico frullatore e lo spremio a grumi elettrico. Ho fatto un affare, no? Pronto? Luciana, è vero che per sole 398 mila lire oltre alla batteria ti danno la macchina da cucire tutti quegli altri prodotti della Singer dal valore di 298 mila lire! E allora? Telefono subito!